Preservare la pace nell'Irlanda del Nord è una delle priorità nei negoziati sulla Brexit. Un ritorno alle frontiere fisiche potrebbe avere ripercussioni sull'economia e sull'equilibrio politico dell'isola. La presenza di posti di blocco lunghi confini potrebbe infatti far riemergere le tensioni del conflitto tra unionisti pro-britannici e nazionalisti irlandesi. Uno scenario da evitare, come ha affermato venerdì l'ex premier britannico Tony Blair. C'è davvero un desiderio comune su qualsiasi altra questione in relazione alla Brexit di fare dell'Irlanda del Nord un caso speciale e assicurarsi che venga fatto tutto il possibile per proteggere l'accordo di pace del venerdì santo. Ci sono sfide veramente importanti e difficili in questo momento. Adesso abbiamo un'area di viaggio comune dove le persone possono viaggiare liberamente da nord a sud dell'isola ed è fondamentale mantenere tutto questo. L'accordo del venerdì santo del 1998 era stato formulato sul presupposto che entrambi i paesi facevano parte dell'Unione Europea per garantirne l'efficacia anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea l'ex leader laborista ha affermato che è necessaria una modifica del testo.